Tanti turisti nello splendido borgo di Anghiari per la 44esima edizione della mostra a mercato dell'artigianato, le botteghe dunque che si aprono ai turisti e insomma mettono in mostra il loro sapere e i loro oggetti, ovviamente tutti realizzati artigianalmente. Tra gli ospiti di questa manifestazione è anche il re del Kashmir, Cucinelli. Qui si respira l'umanesimo, il rinascimento, la qualità, è il luogo perché guardate che adesso sono tornato due ore fa da New York e da lì arrivi qui senti il profumo del vento, il profumo dell'aria fresca, è un'altra cosa, quindi viviamo per nostra fortuna in luoghi speciali. E' questo che dobbiamo riscoprire, perché? Perché il mondo intero da noi cerca manufatti speciali. Qui ho portato, ho questa cornice stile 600 da terminare, questo basso rilievo, poi all'interno c'è un alto rilievo in noce e poi gioielli. Prendi un pezzo di un artigiano, obiettivamente è un pezzo di lui, non è che è un pezzo uguale a tanti altri. Secondo me c'è tanta passione e tanto amore facendo un oggetto, costruendolo, secondo me c'è tanta passione e tanto amore.